C'è chi lo vorrebbe più grande Chi è più piccolo E chi lo ama così com'è Ogni donna sa quanto il seno sia importante Per questo Vileda sostiene Susan G. Comen Italia Comen è la più grande organizzazione mondiale per la lotta ai tumori del seno Promuove la diagnosi precoce Aiuta le donne che si confrontano con la malattia A recuperare il benessere psicofisico E aggiorna gli operatori e le strutture sanitarie Anche tu puoi sostenere Comen Italia nella lotta ai tumori del seno Scegliendo i prodotti Vileda della linea rosa Come super mocio completo 3Action Oggi ancora più efficace con le sue tre diverse azioni pulenti La struttura 3D esterna cattura briciole e capelli La parte in microfibra raccoglie fino al 40% di sporco in più Il cancella macchie rosso rimuove anche lo sporco incrostato Oppure Quanti Sensitive La sensibilità accentuata su palme e polpastrelli dove più ce n'è bisogno Li rende i guanti ideali per i lavori più delicati E poi la scopa V-Style L'avanguardia della tecnologia e del design La parte posteriore si sgancia con un click E diventa una comoda spazio per arrivare ovunque E per finire il panno pavimenti cotone e microfibra Che abbina il potere pulente della microfibra all'assorbenza del cotone Fai anche tu una scelta dalla parte delle donne V-Leda Dedichiamo alle donne i nostri migliori prodotti Fai anche tu una scelta da parte delle donne i nostri migliori prodotti Fai anche tu una scelta da parte delle donne i nostri migliori prodotti